Monsignor Valentinetti, lei ha detto nell'Omelia oggi c'è un sole offuscato, in questa giornata dobbiamo far sì che nei cuori di tutti, di tutti voi, di tutti noi, torni a splendere questo sole perché tutti uniti, tutti insieme possiamo affrontare questo dolore. Sicuramente sì, perché il dolore inevitabilmente ci schiaccia, schiaccia la parte più intima del nostro essere e soprattutto il dolore ha un grande strascico negativo, ci divide. Questo succede in tutte le grandi tragedie, se si studia un po' la storia delle catastrofi, si studia la storia delle morti collettive, inevitabilmente poi dopo il dolore e dopo la morte c'è la divisione. E questa è opera del demonio, non c'è niente da fare perché lui è il divisore, l'ho detto alla fine della messa, ma noi dobbiamo avere il coraggio proprio con la nostra unità di andare al di là di questo che ci farà superare anche il dolore della perdita dei nostri cari. Nella sua media ha anche detto che da cattolici non c'è una risposta a quello che è accaduto lo scorso anno, ma la forza della fede, la forza della speranza. Sì, da credenti più che da cattolici perché la fede non serve per dire signore non mi far succedere questo, non mi far succedere quest'altro o perché non hai fatto questo o perché non hai fatto quest'altro, perché non hai fermato la valanga. No, la fede serve, perché queste cose comunque accadono, per farci attraversare le prove e le prove si devono attraversare con coraggio, ma d'altra parte la prova più dura anche della nostra vita sarà il passaggio della morte. Del resto perché quando muoiono i nostri cari, anche se anzianissimi, noi piangiamo, perché la morte è una durissima prova, ma noi con la fede andiamo anche al di là della morte. Il 25 sarete con i parenti delle vittime a Roma, a Santa Marta, per incontrare Papa Francesco. Sì, è stata una richiesta che è venuta da qualche famiglia, io ho raccolto questa richiesta, me ne sono fatto portavoce, ho trovato la benevolenza del Santo Padre che ha accolto questa nostra richiesta e ci ha assegnato praticamente tutti i posti disponibili, che ne sono 50, dentro quella cappella, per poter celebrare insieme con loro questa Santa Messa. Credo che possa essere anche questo un momento di consolazione, non sarà niente di eccezionale, ma solo un momento di grande consolazione per loro, di grande fiducia nel guardare ancora più avanti.